Perdere la vita sul posto di lavoro è successo ancora. Si allunga la scia di sangue delle morti bianche, questa volta la vittima è un operaio gelese, teatro del drammatico evento il petrolchimico di Ravenna. Nuccio Pizzardi, questo è il nome dell'uomo che ha perso la vita a 43 anni, da molto tempo si era trasferita al nord Italia e lavorava per conto di una ditta esterna allo stabilimento industriale di Ravenna. La tragedia, come riportano i quotidiani di Ravenna, si è consumata nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30 quando probabilmente l'operaio di origini gelesi durante un intervento di manutenzione ad una conduttura sarebbe stato investito dallo scoppio di un tubo. Soccorso sul posto è stato caricato sull'ambulanza ma il cuore di Pizzardi durante il trasporto ha cessato di battere. L'uomo lascia la moglie e una figlia di 13 anni. Il drammatico evento è stato ricordato a Ravenna in consiglio comunale dove la sise civica ha osservato un minuto di silenzio. Saranno le indagini in corso a chiarire le dinamiche dei fatti accaduti. Di certo resta che ancora una volta il lavoro si trasforma in tragedie e questo non è che uno dei tanti episodi che portano all'interruzione della vita dei lavoratori, hanno detto i sindacati Fim, Fium, Wilm di Ravenna.